allora amici ci siamo nel pistone vi prego di non telefonare perché se telefonate salta la connessione vi leggo ve l'ho scritta nel posto sotto la batteria la dovreste vedere comunque ve lo ricordo la prima batteria vede san damiano con siri monte chiaro sanna caster alferro sacco moncalvo arri don bosco faiss via tosto mureddu e san secondo bellocchio enrico bruschelli stanno tirando il canna perché io sono dietro qualche attimo e saranno in pista adesso canna per qui io sono paggiero perché è l'unico posto dove posso stare che non con noi dunque ci viene abbastanza bene poi vi ricordo la finale io la darò ma chiedere e guardare è una cosa assurda perché ci sarà poi la rai la rai 3 che darà la finale da solo la fine le batterie vi dovrete accontentare di pronto dopo 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 mi dicono le da anche la rai però le da registrate dopo e quindi dopo le vedete anche meglio insomma all'istante questo è noi iniziamo alle 6 va in diretta a rai poi le fa rivedere quindi però per vederle subito e nel mondo ci vuole pronto bene amici adesso aspettiamo tempi due cavalli ve le ripeto san damiano con il numero 6 se il cavallo si riconoscete meglio eccola sentite chiama la vi ricordo il numero 16 numero 6 è san damiano con siri il numero 20 è monte chiaro con san 15 il numero 15 è caster al fero sacco ricordatevi i numeri anche io guarderò quelli perché se no non li conosco perché mi perdonerete ma non 21 è la prima volta vengo e non è facile di mettere in ordine anche perché ci sono diverse montate che sono bianche e celesti è un problema devo riconoscere quanti Abbiamo detto Asteralfiero Saku numero 15 Il numero 19 è Moncalvo Coarri Il numero 11 è Don Bosco con Fais Il numero 17 è Via Tosto con Mureddu E il numero 9 è San Secondo con Bellocchio Brustelli Ecco sono entrati Adesso verranno verso qui al canale Per poi fare meno di un giro di galoppo Per riscaldare i cavalli Anche se è dalle due e mezzo che passeggiano Dentro la zona box Eccoli qua Bianca e rosso il numero 9 Luschelli San Secondo Questo giallo e blu è il numero 11 Fais Numero 19 Moncalvo Arri Anche questo è Bianca e Rosso Eccoli qua Eccoli qua Anche l'abbiamo L'abbiamo Un mischio di classe L'abbiamo C'è l'abbiamo Un'abbiamo 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 mi devi lasciare un po' di movimento perché io se no non posso dire scusami se c'ho raffanne troppo sono da leggere, sono da riprendere sono da rionocceri soprattutto questo bianco è celeste vedete il numero 11 è Muret questo è Faist 11 Lombosco blu e rosso invece si riuscite bene questo è Siri numero 6 questo è Bruschelli Sanseguro il bustello è in massa ve lo faccio vedere vediamo un po' lo zoom se si vede peggio poi dopo quando c'è la Rai farà rivedere anche le batterie registrate le vedrete meglio io così posso quindi adesso presenterete il mossiere che chiama da contare così li vedrete anche meglio cominciamo San Damiano Antonio Siri questo si riuscite bene rosso e blu Monteghiaro Monteghiaro Sanna numero 20 Castello Alfero Cavallo La Musina vediamo se riusciamo Castello Alfero Sacco anche questo si riconosce bene eccolo qua Montalvo Montalvo eccolo bianco e rosso che è Harry Don Bosco Don Bosco numero 11 giallo e blu Fais Via Tosto Via Tosto e Mureghi numero 11 San Secondo attenzione non per rosso se lo zoom se no non si prendono più bene andiamo girare i cavalli attenzione girare i cavalli attenzione andiamo a girarsi che cave sono il secondo girarsi attenzione fare posto girarsi no vediamo chi fungerà a dare in corso perché tanto fare posto vedete il capitano attanto al mostiere responsabile del palio stare più bassi venite verso di me scendete verso di me fare posto a tutti scendete verso di me fare posto girarsi San Damiano attenzione attenzione gucken attenzione attenzione fare posto attenzione attenzione fare posto calce bu attenzione for stavano guardando Siri e Bellocchio uno basso e uno alto per San Damiano e San Segundo questo lo possiamo definire veramente un palo eh questo è veramente un albero questo questo vediamolo zoom se no non li riprendiamo tutti questa nuvola ci salva vi ripeto leggete il post sopra che ci sono i sono i contrari ve le ripeto San Damiano numero 6 Siri numero 20 Monteghiaro Sanna numero 20 numero 19 Arri Moncalvo numero 11 Don Bosco Paes numero 17 Piatosto Monteghiaro numero 9 Ruschelli di San Segundo ecco questo è Siri Castello a Zero vi chiamo io però non tutti insieme se no non ci capiamo niente vi chiamo io Castello a Zero terzo quello che si conosce meglio di tutti Moncalvo ecco questo è Saku su Castello a Zero Don Bosco attenzione attenzione non va bene non va bene via Tosto questo è Mureggio su via Tosto San Segundo no 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 non va bene non va bene vediamo un po' numero 9 bell'8 numero 17 in alto è avvicinati al caravan girarsi avvicinarsi al caravan tranquilli calmate i cavalli girarsi non forzate il caravan mantenete le posizioni per favore San Segundo dentro a posto e non forzate non forzate San Segundo un po' più alto San Segundo alto state a posto San Segundo abbassatevi da questa parte abbassatevi attenzione calci attenzione non esasperare i cavalli abbassatevi verso di me pronti girarsi girarsi San Segundo più alto San Segundo alto ginalarsi ecco ecco no 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 no